Secondo weekend di playoff scudetto della Samsung Galaxy Volley Cup è grande attesa per legare due dei quarti di finale che potrebbero definire una o più semifinaliste o al contrario rimandare tutto ai match di spareggio di mercoledì 28 marzo. Sabato sera l'Adriatica Arena ospiterà il duello tra Mai Cicero Volley Pesaro e Savino del Bene Scandici con le Toscane avanti 1-0 nella serie. Domenica pomeriggio gli altri tre accoppiamenti. Ligor Gorgonzola Novara, dopo aver ottenuto il successo per 3-1 nella prima partita, farà visita al Mandela Forum per affrontare il Bisonte Firenze. In trasferta anche di Moco Volley Conegliano come le Azzurre, reduce dall'impegno infrasettimanale in Champions League, si esibirà lontano da casa sul campo della Liugio Honor Meccanica Modena. Infine l'unica formazione che avrà la possibilità di chiudere i conti tra le mura di casa è il Saugella Team Monza. Forte dell'affermazione esterna, Busto Arsiz è pronta a vedersela alla Candi Arena con la UNE T-Work. Sicuramente abbiamo rivisto la partita quasi per intero in questi giorni di preparazione, abbiamo visto cosa dobbiamo modificare, cosa dobbiamo mantenere come la prima partita, cosa dobbiamo migliorare. Sicuramente avendo avuto un giorno in più sulla programmazione della settimana, questo ci ha permesso di allenarci meglio, con più calma e quindi di vedere ogni singolo aspetto della partita di sabato.